Il cambiamento più rapido, farà sorpresa, non avviene attraverso mezzi tecnologici, ma avviene nel nostro cervello. Non esiste alcun macchinario, alcun robot in grado di reagire in millesimi di seconda a uno stimolo. La nostra mente riesce a farlo. Se voi camminate per delle scale, inciampate e riprendete l'equilibrio, lo dovete a questo meccanismo, un meccanismo che è preistorico, primitivo, ma che permette di avere una reazione in millesimi di secondi che ci salva da una caduta, che ci permette di non investire un bambino che attraversa la strada mentre noi guidiamo, al tempo stesso quel qualcosa che ci farà brividire quando arriva uno stimolo spaventoso, perché questo è il meccanismo della paura. Parlare di cambiamenti rapidi, pertanto, dal mio punto di vista ci induce a riflettere su quella parte dell'essere umano che è in grado di percepire le cose e di reagire alle cose e di elaborare le cose. Ma uno dei vizi storici dell'Occidente e anche della scienza occidentale è, sulla base della filosofia antica, pensare che il pensiero venga prima di qualunque cosa. Oggi le neuroscienze ci dimostrano concretamente quello che devo dire da un punto di vista sperimentale, empirico, avevamo già sperimentato fino da oltre 35 anni fa, curando, trattando con successo i disturbi più gravi come le ossessioni compulsive, l'anoressia e il panico, che oltre l'ottanta per cento delle nostre attività mentali si isolge al di sotto della coscienza, mentre la coscienza rimane un mito. Abbiamo sentito anche prima un interessante commento. Le nostre reazioni meccanici agiscono prima del pensiero. Non deve stupire, l'azione viene prima del pensiero. Heinz von Fester, un grande scienziato, diceva, se vuoi vedere impara ad agire. Quindi noi dobbiamo imparare a gestire il nostro modo di sentire, il nostro modo di agire, per imparare a reagire agli stimoli nel modo più funzionale, evitando le modalità disfunzionali. Una delle modalità più disfunzionali che viene applicata da sempre è pensare che io devo fare tutto guidato dalla luce assolutamente cristallina della coscienza. La coscienza, nella maggioranza dei casi, è un impedimento al cambiamento e non un veicolo del cambiamento. Anzi, come i miei maestri mi hanno insegnato anni fa, la coscienza è dove risiedono le maggiori resistenze al cambiamento. Perché se si parla di cambiamento non si può non parlare del rovescio della sua medaglia, la resistenza al cambiamento. Tanto più noi siamo protesi a un cambiamento, tanto più dentro di noi si innescano delle reazioni contro il cambiamento. In biologia si chiama omeostasi, un equilibrio che una volta raggiunto tende a mantenersi e gli equilibri mentali sono quelli più rigidi. Ora, ma siccome abbiamo visto che la nostra mente può rispondere in millesimi di secondi, in modo apparentemente incosciente, perché a me piace parlare di incoscienza educata, quando un atleta, come alcuni di quelli che ho avuto il piacere di seguire, rispondono in un duello di scherma in millesimi di secondi all'attacco, non rispondono pensando, perché se pensassero arriverebbero in ritardo, rispondono per un meccanismo di educata incoscienza, un addestramento reiterato che porta ad avere una consapevolezza operativa che non è coscienza, è presenza nell'atto, agire, ma non cosciente. La coscienza è un'astrazione intellettuale che ci distacca da quello che è in corso, non ci fa fare meglio quello che è in corso. Poi la coscienza è molto utile prima e dopo la prestazione, quando io devo pianificare sulla base delle esperienze, allora rifletto, analizzo coscientemente, quando dopo una prestazione rifletto su cosa è accaduto e ne ricostruisco gli effetti. Quindi come vedete tornano alla mente le parole di Einstein quando ci dice oggi abbiamo bisogno di un nuovo modo di pensare per risolvere problemi creati dal vecchio nuovo di pensare. Il vecchio modo di pensare è pensare che il pensiero venga prima di tutto e che domini tutto. Oggi per fortuna gli studi più avanzati di psicologia, di neuroscienza, di psicoterapia inducono e dimostrano che le nostre risposte più importanti sono fondamentalmente di tipo emozionale e non più razionale. Sapete che i due premi Nobel per l'economia, psicologi, Thaler e Kahneman, hanno proprio preso il premio Nobel dimostrando che oltre l'80% delle decisioni fredde, lucide di un economista in realtà sono prese sulla scia emozionale. Immaginate quello che noi facciamo tutti i giorni. Quello che produce il cambiamento ultra rapido nel modo di sentire e di agire è quello che un famoso studioso degli anni 40, Franz Alexander, aveva definito esperienza emozionale correttiva. Ovvero quel tipo di esperienza concreta che una persona esperimenta realmente e che gli fa sentire anche solo per un attimo una percezione totalmente diversa della realtà, gli cambia la prospettiva. Nel mondo orientale la chiamano illuminazione, ma quello di solito è l'effetto di un percorso reiterato nel tempo di meditazione. Invece l'esperienza emozionale correttiva è qualcosa che accade continuamente. Abbiamo visto quelle foto che colpiscono, ma quello che quelle foto producono in chi le vede sono proprio sensazioni, sensazioni forti che possono per alcuni trasformarsi in esperienza emozionale correttiva. Essere folgorati sulla via di Damasco ci ricorda qualche testo sacro. L'esperienza emozionale correttiva è qualcosa che oggi attraverso studi reiterati sperimentali a livello empirico può essere prodotto tecnologicamente. Ovvero sono state messe a punto tutta una serie di tecnologie chiamate tecnologie terapeutiche, io le chiamo tecnologie psicologiche, che possono permettere di guidare le persone a sperimentare esperienze emozionali e correttive che le fanno uscire dalle loro rigide trappole mentali. E badate bene, le trappole mentali possono essere quelle del soggetto che ha un grave disturbo o quelle del manager fissato in una idea, o quelle dello scienziato innamorato della sua scoperta e non se ne schioda più, o dell'atleta bloccato nella sua performance. Quindi non stiamo parlando solo di un mero ambito, ma stiamo parlando di un ambito estremamente importante che rimette la persona al centro di quello che è lo studio del cambiamento e dei cambiamenti rapidi. Proprio perché oggi abbiamo le prove concrete che i cambiamenti rapidi si possono realizzare anche in situazioni che una volta si pensavano inamovibili oppure che richiedessero tempi lunghissimi per essere modificate. però badate bene, ogni medicina all'eccesso diventa un veleno, ogni veleno in formato ridotto diventa una medicina. Che cos'è che induce le persone a cambiare l'esperienza emozionale e correttiva? Ma come si induce una persona a fare qualcosa che magari fino almeno non ha avuto l'ardire di fare, non ha avuto la capacità di sperimentare? Attraverso certe forme di comunicazione. E qui torniamo indietro nel tempo, torniamo alla ritorica della persuasione, alle suggestioni ipnotiche, all'arte della persuasione. Ma quando allora parliamo di tecnologia, tecnologia che arriva in un attimo e con un click nel mondo, oggi si rende ancora più necessario pensare come la comunicazione abbia un potere straordinario nel creare esperienze emozionali correttive e come questa debba essere utilizzata con grano salis, come si dice con sale e zucca. E che non sia né un'improvvisazione né un qualche cosa di eccessivamente irrigidito su posizioni moralistiche di censura. Non si può fermare il cambiamento, il cambiamento è costante, lo dicevano gli antichi oltre 4.000 anni fa, però lo possiamo cavalcare. La comunicazione non si può evitare, si comunica comunque, l'influenzamento non può essere evitato nel bene e nel male. Quindi non è che limitando, censurando delle cose si riducono i rischi, tutt'altro. Anzi ormai penso che la maggioranza di chi ha un minimo di esperienza studiato un po' sa che ogni volta che si proibisce una cosa la si rende ancora più desiderabile, quindi ne si incrementa la presenza, non si riduce. Oggi lavorare sulla comunicazione ci riporta a qualche cosa che più che moderno è molto antico, imparare l'uso del linguaggio, della comunicazione persuasoria che calzi a certi scopi. Quindi più impariamo a utilizzare a comunicare in modo strategico per ottenere certi scopi, anche se questo può sembrare manipolatorio, ma persuadere è condurre suovemente a sé, manipolare e forzare con le mani. Sono due cose completamente differenti. Più impariamo a essere persuasori e più impariamo essere capaci attraverso la persuasione di indurre le menti e comportamenti nelle direzioni più funzionali per l'umanità, più riusceremo a cambiare il mondo. Come indica Gotayama Gandhi, se vuoi cambiare il mondo comincia col migliorare te stesso. Grazie. 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 Grazie a tutti.